All'appello tutti i neoassessori. Primi ad arrivare sono Giovanni Lolli, vicepresidente con delega attività produttive, crisi industriali, valorizzazioni, beni culturali, politiche della ricostruzione, appennino italico, rapporti con le commissioni consigliari, impulso e monitoraggio per le riforme istituzionali. Dino Pepe, delega all'agricoltura, caccia, pesca, economia del mare, demanio marittimo, cicloturismo, contratti di fiume. Mario Mazzocca, enti locali, assistenza tecnica ai piccoli comuni, associazionismo territoriale, protezione civile, servizio idrico integrato, ambiente d'ecologia, cave e torbiere, termalismo. In seconda battuta l'arrivo di Silvio Paolucci, programmazione economica, legge di stabilità finanziaria, programmazione sanitaria, politiche del benessere sportivo e alimentare, rivoluzione della pubblica amministrazione, digitalizzazione, dematerializzazione del sistema amministrativo della regione, politiche per le risorse umane, strumentali, tecnologiche e patrimoniali. Donato di Matteo, lavori pubblici, riferiti e territori comunali, urbanistica, parchi, riserve e montagna, abruzzesi, emigranti e tradizioni locali, progetti speciali territoriali, impiantistica sportiva, marinella sclocco, politiche sociali, politiche attive del lavoro, pari opportunità, politiche giovanili, diritto all'istruzione, associazionismo, terzo settore, sussidiarietà orizzontale, piano regolatore dei tempi e tempo liberato. Per sé il governatore d'Abruzzo ha scelto di tenere le deleghe ai trasporti, quella alle infrastrutture e quella al turismo. Un'altra particolarità del nuovo assetto regionale è stata introdotta a inizio riunione. D'Alfonso annuncia che al tavolo di giunta c'è un non assessore. Si tratta di Camillo D'Alessandro, a lui un ruolo dedicato, quello di relazione. Sottosegretario della Presidenza della Giunta che sarà formalizzato non appena il Consiglio regionale si insedierà. Ma è necessario un passaggio normativo che faremo, però intanto possiamo già lavorare. E poi qualche osservazione a margine. Leggendo le deleghe qualcuno nota la particolarità di alcune diciture. Piano regolatore dei tempi e del tempo liberato, politiche del benessere sportivo e alimentare, rivoluzione della pubblica amministrazione, smaterializzazione del sistema amministrativo. E allora una domanda è d'obbligo. Perché? Un po' di fantasia ma soprattutto di modernità, direi. Di modernità perché la digitalizzazione è un termine molto moderno, perché le politiche dell'alimentazione e dello sport sono legate ovviamente anche alla programmazione sanitaria e perché ritengo che anche attorno a quella che è una programmazione più ampia con quei termini si vuole accogliere anche un mondo che cambia.